Piero Lamanna, agronomo e professore Antonio Greco, i responsabili dell'azienda e del presso dell'Istituto Agrario di Soveria Mannelli del Liceo Costanzo. Siamo qui nelle serre, ci raccontate cosa avviene in questi luoghi? Questa dove ci troviamo in questo momento è una serra calda e dotata di un impianto di condizionamento e qua dentro facciamo principalmente produzione di piantine da orto che poi verranno trapiantate nelle aziende dell'Istituto e di piante ornamentali che poi verranno comunque o messe in vendita o messe a decoro di quello che è l'ambiente scolastico. Premesso che tutto ciò che vede qui in serra, tutto ciò che viene realizzato, viene fatto dai ragazzi. Sin dalla realizzazione delle piantine fino alla messa a dimora praticamente in azienda. Quindi è un processo produttivo che parte dalla A alla Z completamente con la presenza dei ragazzi. Di conseguenza loro hanno la possibilità di imparare sia teoricamente che praticamente tutto ciò che praticamente viene fatto. È un ciclo produttivo che dura circa praticamente sette mesi, perché noi iniziamo a lavorare praticamente già a settembre, per poi praticamente dare le finalità produttive e poi naturalmente quelle di vendita nei mesi praticamente primaverili e estivi. Tutto naturalmente con la collaborazione degli insegnanti, dei ragazzi e degli addetti al personale dell'azienda. Quindi praticamente noi qui per noi è un laboratorio sperimentale a tutti gli effetti. Grazie per la visione!